adesso andiamo a realizzare una copertura semi permanente con base coat classica quindi stendiamo sempre prep questa è una lamina naturale scoperta da qualsiasi trattamento è solo preparata e resa ricettiva per accogliere il trattamento nel migliore dei modi e perché il trattamento rimanga aderente il più possibile bonder attendiamo 30 secondi che anche bonder agisca e passiamo all'applicazione di base coat classica è una base che ha una consistenza estremamente liquida quindi è realizzata appositamente per creare coperture per realizzare scusate coperture sottili e garantire l'adesione dell'applicazione dello smalto semi permanente nel tempo quindi non eccediamo col prodotto ma crea stendiamo uno strato sottile ma che copre in maniera uniforme tutta la lamina naturale in questo modo la stesura di base coat è corretta quando il prodotto riflette la luce su tutta la superficie a questo punto rimuovo la dispersione di base coat per agevolare la stesura del colore semi permanente e procedo appunto con con la prima stesura di colore come sempre mi avvicino alla zona cuticolare senza toccarla e poi stendo il prodotto su tutta la superficie dopo aver catalizzato la prima stesura di colore procedo con la seconda sempre facendo attenzione a non toccare le cuticole e coprire tutta la superficie concluso il trattamento togliendo la dispersione del colore e applicando il sigillante top coat top coat sigillante senza dispersione che va catalizzato in lampada a bulbi uv 180 secondi e in lampada uv led 120 secondi questo è il risultato finale della copertura realizzata con kit semi permanente con base coat classica grazie a tutti